Mi sembra che sia il progetto più importante della città di Pescara, quello che ci avrebbe fatto diventare una città al passo con l'Europa, con setteri di parco al centro, con vista mare, con una bonifica di 3 milioni di euro che aspettiamo da tantissimo tempo, con parcheggi silos, con un terminal bus sotto il rilevato ferroviario. Un progetto che noi avevamo fortemente voluto, che loro avevano fortemente osteggiato, prima con migliaia di emendamenti al primo passaggio in Consiglio Comunale, poi con 5 mila osservazioni e poi una volta arrivati al governo della città avevano, anche se con ritardo, sposato. Ma non è stato un matrimonio così neutro, perché lo hanno profondamente modificato. I cittadini di Pescara devono sapere questo, questo progetto è stato reso inappetibile sui tir e sui van, cioè sugli indici di bancabilità, dell'appetibilità per il mondo del mercato, per l'imprenditoria, per delle scelte che sono state fatte, che hanno aumentato l'ammontare delle opere, 5 milioni di euro sul silo sud, addirittura con la previsione di realizzazione di una pista da sci e di snowboard a Pescara. Nell'area di risulta, 5 milioni di euro in più, 4 milioni di euro in più sull'edificio a sud, l'aumento spropositato del numero di parcheggi 300 in più, che comporta un aumento dei costi di realizzazione e un più alto rischio che gli stessi siano realmente occupati. Perché oggi il tasso di occupabilità c'è, la conosciamo bene, sull'area di risulta. Questo significa non aver portato a termine un progetto che era pronto, che hanno osteggiato, poi hanno sposato e hanno gravato con fondi pubblici lasciati dal centro-sinistra della giunta d'Alfonso. Mi sembra il fallimento più plateale per la città di Pescara, mi sembra che sia proprio il caso di chiedere l'edimissione del sindaco di Pescara, mi sembra che non sia il caso di aderire alla cortina fumogena lanciata dal vero sindaco di Pescara, che è Lorenzo Sospiri, che nei giorni scorsi, per coprire il fallimento di Masci, ha lanciato l'idea di realizzazione di una sede unica della regione. Su cui spendo due parole. Noi siamo per la sede unica della regione nella città di Pescara per mettere insieme tutte le sedi della giunta regionale presenti in questa città. Lo abbiamo sostenuto fortemente nel corso di questi tre anni, ma siamo per una città policentrica, cioè vogliamo che il bel palazzo della regione che Pescara merita nasca in una periferia e aiuti un po' a riprendere anche le periferie della nostra città. Non certo nel centro di Pescara, non certo per evitare la discussione su questo fallimento.